Avete presente il calendario dell'avvento, quello che per andare a Natale ti regala un cioccolatino, una caramella ogni giorno aprendo una casellina. Bene, oggi facciamo una sorta di calendario dell'avvento per quanto riguarda il ritorno della Juventus, perché manca un mese e 14 giorni, quindi 44 giorni precise, 6 settimane e 2 giorni. Potete vederla un po' come volete al ritorno della Juve, quindi a Cremonese e Juventus, lo so, è una cosa abbastanza triste perché ci vorrà ancora un pochettino, però possiamo assolutamente anche ragionare in funzione dei mondiali che sono appunto iniziati ieri. Io vorrei cercare di raccontarvi un po' di cose intrecciate in questo video del lunedì e quindi ne approfitto per augurarvi un buon inizio di settimana, partendo da un'informazione, da una notizia che è circolata ieri, è stata ufficializzata ieri, e cioè il fatto che la Juventus ieri ha spostato l'assemblea degli azionisti al 27 di dicembre, era in programma per il 23 di novembre, è stata spostata, è stata posticipata per cercare di approvare il bilancio il più lontano possibile. Tra l'altro io ne mastico veramente poco, veramente pochissimo di economia e di bilancio e queste cose qui, però da quanto ho capito poi il 27 di dicembre sarà l'ultima finestra disponibile per approvare il bilancio. Non so se è stato posticipato perché è un po' più delicato di quegli altri e sappiamo che c'è un po' di rosso, non so se c'è da parlare di qualcosa in più oltre il bilancio. Io ribadisco, ragazzi, ne mastico poco, quindi mi dispiace, affidatevi a chi invece queste cose le capisce, chi innaviga in queste cose, non voglio assolutamente vendermi come esperto, quale non sono. Vi riportavo soltanto la piccola notizia che è circolata nella serata di ieri sera e poi vedremo che cosa ne uscirà. Qualche mese fa si pensava che potesse essere anche un attimino il momento in cui si sarebbe discussa la figura di Massimiliano Allegri, direi che in questo momento invece il pericolo è abbastanza lontano per quanto riguarda il cambio in panchina, quindi Allegri può stare un po' più tranquillo e non credo che si parlerà di un esono rimediato ma si potrà parlare eventualmente di una programmazione degli anni prossimi con degli obiettivi da raggiungere nel corso della seconda parte di stagione perché sì, ieri sono iniziati i mondiali, però come ben sapete il focus del tifoso italiano poi, a maggior ragione italiano, che non ha la nazionale italiana perché comunque si è giocato ieri sera con l'Austria, ha perso per 2-0, non è i mondiali e quindi l'unica cosa positiva che ci possiamo portare a casa, noi tifosi juventini e italiani da queste due amichevoli che ha giocato la nazionale sono gli esordi appunto con l'Italia di Fagioli e di Miretti che sono una piccola grande soddisfazione per quanto mi riguarda, significa che anche Mancini comunque sta iniziando a vederli sotto un'altra ottica, sotto un altro profilo dato che la speranza è giocarlo il mondiale tra 4 anni quando ero, wow, 34 anni, quasi 35 mamma mia, non ci voglio pensare a questa cosa qui, ma anche al prossimo europeo, dato che dovremo poi confermarci serviranno giocatori più pronti e Fagioli e Miretti magari potrebbero essere i titolari anche della nazionale perché storicamente la nazionale va bene quando è la Juve a dare in pasto un po' di giocatori appunto all'azzurro e quest'anno si è fatto un po' più fatica del solito con la Juve e si è fatta tanta fatica anche con la nazionale purtroppo secondo me c'è un filo rosso che unisce queste due squadre, ma andiamo un attimo a focalizzarci sui mondiali perché appunto ieri c'è stata la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador, tra l'altro leggevo che non era mai accaduto nella storia che la prima partita fosse persa dalla nazionale ospitante, quindi ieri il Qatar ha perso per 2-0 dall'Equador e io vi ho spiegato un po' quale sarà il mio sogno che accompagnerà tutto il percorso mondiale in questo mese ed è un sogno che va a legare due giocatori straordinari che hanno segnato la mia infanzia che sono Ronaldo e Messi, infatti sogno una finale tra Portogallo e Argentina e dato che l'Argentina sarà la prima a scendere in campo domani alle 11 di mattina contro l'Arabia Saudita a tal proposito vi invito a fare un salto qui in descrizione perché c'è un sito con statistiche, approfondimenti, analisi inerenti proprio alla partita con l'Argentina e quindi vi consiglio di fare un salto nel link di Super Scommesse qui sotto in descrizione andatevi a vedere un attimino che cosa dicono è proprio dell'Argentina vorrei parlare perché c'è un'altra notizia in realtà a lato Juventus e c'è un discorso un po' più ampio che voglio fare insieme a voi per quanto riguarda il mondiale i giocatori della Juve parto da quest'ultimo, poi ci concentriamo sulla notizia legata all'Argentina perché si intreccia sono due cose che vanno veramente a legarsi tra di loro la domanda è questa, secondo voi, che cosa potrà influenzare i calciatori della Juventus durante questo mondiale? mi spiego meglio perché la Juventus è la squadra in Serie A che ha dato comunque più giocatori nazionali stiamo parlando di 11 giocatori, vi avevo fatto vedere un attimo una grafica visto che anche la Juventus ha ripreso questo giochino di mettere giù la formazione quindi Chesn in porta, il trio brasiliano, Bremer, Danilo e Alexandro abbiamo Kostic sulla sinistra con McKennie sulla destra, un po' adattato anche se l'abbiamo già visto fin troppe volte, quindi adattato fino a un certo punto Paredes e Rabiot a centrocampo, Di Maria dietro Blaovic e Milik questi sono gli 11 giocatori e pensare che la Juventus, un club italiano quindi, no? sia a dare ben 11, e non sono pochi ragazzi, 11 calciatori della nazionale nonostante la nazionale italiana, appunto, club di appartenenza italiana non si sia qualificata al mondiale, beh, tanta roba e quando si parlava un po' di giocatori scarsi legati alla Juventus siamo comunque la squadra in Serie A che sta fornendo più giocatori qualificati al mondiale quindi secondo me questo deve essere un motivo anche di vanto d'orgoglio di tirare anche un po' fuori le unghie perché ultimamente in questi anni le stiamo tirando un po' indentro, invece bisogna secondo me tirarle fuori e constatare che comunque sotto questo profilo i calciatori hanno comunque una pil di un certo livello si sta mantenendo una pil internazionale forte e non è scontato, vi faccio un esempio, Di Bala Di Bala che quando era la Juventus difficilmente veniva convocato in pianta stabile con l'Argentina, no? quindi non è un discorso di se è alla Juve quindi è più facile adesso che gioca nella Roma è stato convocato per la prima volta al mondiale e anche l'altro giorno Scaloni ha detto io su Di Bala lo sento più adatto alla Roma, al modo di giocare della Roma piuttosto quanto non fosse prima con la Juve quindi non è tanto il club, non è sempre solo quello anche quello certo è un motivo d'orgoglio, ribadisco ma non è solo il fatto che giochi nella Juventus e quindi ti convocano significa che sotto sotto gli allenatori CT hanno visto un merito nel convocare questi calciatori perché allora che giochi nella Juventus e giochi in un'altra squadra non ne frega niente devono provare a vincere il mondiale quindi già questo secondo me è un'analisi interessante ma vi chiedo, dato che prestiamo due giocatori all'Argentina due giocatori alla Serbia, due giocatori alla Polonia tre giocatori al Brasile, un giocatore alla Francia un giocatore agli Stati Uniti e via dicendo e via via secondo voi come reagisce? cioè Vlaovic che mi esce ai gironi per dire esempio, Vlaovic e Kostic che mi escono ai gironi o Vlaovic e Kostic che mi arrivano in semifinale che è un traguardo allucinante per la Serbia come la prendono? cioè è meglio l'esaltazione, è meglio la delusione come mi tornano? perché poi ho visto il titolo di Tutto Sport l'altro giorno mi pare Tutto Sport non mi era piaciuto il discorso di se la sentono Vlaovic di Maria prima non se la senti era non mi è piaciuto per quanto il tifoso lo possa pensare poi un giornale secondo me certe cose non le deve dire è meglio non dirle però questa è la mia opinione perché ribadisco il conto è il tifoso ed è giustissimo che il tifoso lo pensi che lo dica ma giornalismo dovrebbe essere secondo me un'altra roba più distante rispetto all'opinionismo a meno che non sia un editoriale quindi questa è un po' la mia considerazione perché vi dico questo? perché comunque appunto la squadra a cui prestiamo più giocatori e che ha più possibilità di vincere anzi sono due sono Brasile-Argentina immaginiamoci una finale tra Brasile-Argentina Di Maria la vince vince la finale vince la Coppa come mi torna? galvanizzato dalla vittoria del mondiale o si sente un giocatore che ormai non può più chiedere niente al calcio perché ha appena vinto il mondiale e ha soltanto sei mesi con la Juve perché insomma il discorso psicologico è molto importante è decisamente importante per capire come andremo ad affrontare la seconda parte di stagione è proprio dall'Argentina vi dicevo voglio ripartire per un discorso Paredes dato che la Juve è uscita ai gironi di Champions League e non siamo andati agli ottavi non c'è più l'obbligo di riscatto nei confronti di Paredes ora abbiamo soltato in diritto anche perché Paredes costicchia costicchia giocatore che che con riscatto in tutto dovrebbero essere una cifra intorno ai 25 milioni di euro che non sono pochi sono abbastanza devo dire la verità sono abbastanza e quindi vi chiedo voi che cosa fareste con Paredes perché io l'altro giorno quando vi parlavo di Rabiot Milinkovic Savic ho fatto anche un discorso generale che andava a prendersi dentro Pogba Miretti Fagioli Rovella vi dicevo non lo so io fino a questo momento da Paredes non sono stato conquistato anzi l'avete visto nella tier list sia Di Maria che Paredes tra l'altro e quindi anche questo no questo sogno che ho legato all'Argentina che arriva in finale col Portogallo a me piacerebbe in realtà vedere Di Maria e Paredes trascinare l'Argentina verso una finale mondiale perché sono due dei giocatori che mi hanno deluso di più l'atto Juve in questa prima parte di stagione e averceli all'interno di un contesto vincente l'atto mondiale quindi la vitrina più alta in assoluto secondo me aiuterebbe anche loro a ritrovarsi a livello mentale a livello di motivazioni perché se fai un bel mondiale o addirittura vinci il mondiale a me viene a pensare quando poi torno nella mia squadra del club voglio dimostrare al mondo che sono sempre in grado di giocare su quei livelli non voglio dimostrare che sono in grado di giocarci per un mese e poi abbasso un attimo la guardia e secondo me noi abbiamo una gran anzi abbiamo un gran bisogno sia di Di Maria che di Paredes quindi qua la domanda che vi faccio dato che io oggi non lo riscatterei ma per fortuna non dobbiamo deciderlo oggi 21-11-2022 ma abbiamo la possibilità di capire se vogliamo riscattarlo o meno perché non c'è più obbligo ma c'è diritto dato che siamo usciti dalla Champions un male incredibile ma che apre una sorta di molte virgolette fortuna dato che ti metti di fronte a una decisione che puoi prendere te vi chiedo come è giusto ragionare perché io ho già letto tante correnti di pensiero differenti e non dico che siano giuste o sbagliate perché è semplicemente impossibile in questo momento dire è giusto o sbagliato abbiamo delle previsioni a poter fare ognuno di noi e vediamo vediamo che cosa succede quindi aspetto un po' i vostri commenti qui sotto ricapitolando l'assemblea degli azionisti spostata al 27 di dicembre la Juventus non ha più l'obbligo su Paredes ma ha il diritto e inizia il sogno inizia il girone del sogno tra Argentina contro l'Arabia Saudita domani per poi avere anche il Portogallo per la finale da sogno Ronaldo contro Messi e aggiungo Di Maria e Paredes dato che sono i rappresentanti Juve dai sarebbe veramente un epilogo mondiale di alto livello